Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video rispondo a una domanda di Sergio che saluto, ciao Sergio, il quale mi chiede se posso brevemente indicargli quali sono i passaggi nel canto, quali sono gli aspetti principali e soprattutto fa fatica durante la ripresa dell'aria, si sente affaticato e mi chiede da cosa può dipendere. Ora io posso ipotizzare delle cose ma avrei bisogno di vedervi o comunque di sentirvi per capire effettivamente qual è la situazione. Riguardo alla prima domanda e poi risponderò parzialmente dando un'ipotesi alla seconda domanda, ne ho parlato in tanti altri video quindi vi invito a mettere nella ricerca gli elementi del canto e trovate tutti i video in cui vi parlo. Volentieri faccio una sintesi, gli aspetti principali sono uno respirazione che deve essere intercostale diaframmatica, questo perché ci consente di abbassare, di distendere, di aprire il nostro diaframma. Due l'appoggio ovvero evitare di chiudersi subito quando si canta e cercare invece di stare in espansione, detto banalmente cercare di stare con le nostre costole aperte, con il nostro torace dilatato, quello che noi abbiamo ottenuto con l'inspirazione quindi detto in altri modi è anche il mantenere lo stato ispiratorio ovvero questo questo senso di espansione continua quando noi cantiamo evitando di chiudersi, spero in questo modo sia un po' più chiaro. Terzo elemento è il sostegno ovvero guidare la voce e sostenerla attraverso i muscoli addominali. Io suggerisco di pensare alla parte molto alta dei muscoli addominali, adesso vi faccio rivedere la parte dell'epigastrio, cercate di concentrarvi proprio appena sotto la parte centrale del diaframma dove c'è il centro frenico, proprio lì sotto, immaginate di avere un bottoncino che voi premete dentro e su e da lì guidate la vostra aria. Ora vi faccio vedere. Quarto elemento puntare sempre la voce in avanti al focus e mantenere la puntata toccate quando iniziate a cantare questo focus che abbiamo identificato idealmente tra le sopracciglia e in mezzo agli occhi dove portiamo il ponticello diciamo degli occhiali qui, la voce tocca questo puntino come uno scoppio e poi va sempre in avanti molto leggera, molto aerea, lasciate scorrere la voce. Detto questo elementi principali del canto, dunque respirazione vi faccio vedere, intercostale apro, vedete il diaframma in questo modo cosa fa? Si apre e si distende, faccio rivedere, ok vedete come le costole proprio si aprono, immaginate di avere una fisarmonica e di aprire con due manici qua. Ok questa è la respirazione intercostale e diaframmatica. Secondo punto evitare quando cantiamo di chiuderci e di abbassare il petto ma inspiro, sto in apertura, immaginate di avere appunto una fisarmonica due maniglie mentre cantate ed espandete questa fisarmonica durante l'espirazione, durante il canto per stare nel famoso appoggio. Potete anche immaginare ad esempio di avere due mani all'interno delle costole che aprono le vostre costole, ad esempio che è come se fossero due porte di un ascensore che voi aprite, due porte scorriboli che voi aprite, poi le immagini possono essere diverse. Terzo aspetto è il sostegno, mettete un dito alla fine dell'esterno, questo punto voi non lo dovete irrigidire in fuori spingendo cantando ma dovete ammorbidire, questo punto deve rientrare dentro in alto, quindi quando voi cantate immaginate di premere questo bottoncino qui in alto e consentire all'aria di venire pressurizzata, di essere sostenuta. Questo punto diciamo ovviamente immaginativo, io consiglio, concentratevi qui, sbloccate questa parte del diaframma, qui noi abbiamo il centro frenico del diaframma, la parte centrale del nostro diaframma, localizzate proprio qui questo rientro, sentirete il vostro torace che dolcemente si eleva e si alza in questo modo. Un aspetto importante per rispondere alla seconda domanda, quando si finisce questo processo bisogna lasciare andare l'aria residua, questo cosa significa? Vi faccio vedere le fasi del canto, inspiro, sto in apertura, in appoggio, preparo il mio sostegno prima di cantare un pochino in dentro e poi continuo a sostenere la voce, la punto al forellino qua, la voce tac tocca qui e poi va sempre avanti, canto tutta la mia frase che devo cantare e poi mollo tutto, fuori l'aria residua, rilasso tutto e poi ricomincio da capo, apro, sto in apertura, sostegno, punto la voce e vado avanti. Facciamo un esempio di un vocalizzo, mi metto più in fondo così potete vedermi mettendo in pratica questi aspetti, dunque uno inspiro, due sto in appoggio, tre inizio a preparare il sostegno, lo mantengo, punto la voce e la lascio andare. Inizio il vocalizzo, mi, punto la voce qui e la lascio andare, mi, mollo tutto, fuori l'aria residua e poi ricomincio, mi, fuori l'aria residua, mollo tutto e ricomincio e così via. Quindi il senso di compressione che magari puoi sentire è proprio dato dal fatto che non molli l'aria residua e stai sempre in continua espansione, in continua tensione, in continuo appoggio, in continuo sostegno. No, si canta la frase o ogni singolo vocalizzo e bisogna abituarsi proprio apro, chiudo, apro, chiudo, nel senso apro, sto in apertura, sostengo la voce fuori, poi finita la frase ricomincio da capo, apro, sto in apertura, preparo il sostegno, tengo il sostegno, punto la voce e la lascio andare. Questi sono i quattro punti principali del canto che non bisogna mai dimenticare, sono i pilastri su cui si costruisce la voce. Quindi sintetizzando, uno, apro, respirazione intercostale diaframmatica, due, sto in apertura con l'appoggio, ovvero con le costole aperte, cerco di non chiudermi subito, tre, preparo un momento prima di iniziare a cantare, il sostegno, pensando a questo punto diciamo appena sotto lo sterno, in dentro, continuo a sostenere per tutta la frase guidando il mio fiato, punto la mia voce a questo ideale forellino, focus, la lascio andare per tutta la frase. Fatto questo ricomincio, lascio uscire l'aria residua, mollo tutto e ricomincio da capo con tutti questi quattro elementi, respiro, appoggio, sostegno, puntare la voce e lasciarla andare in avanti. Questo in sintesi, in soldone un pochino tutto quello che è il processo del canto e spero di aver risposto in modo chiaro al dubbio e alla difficoltà. Raccomando, quando avete finito la frase, mollate tutto, fuori l'aria residua, rilassate tutto e ricominciate immediatamente tutti i quattro, diciamo, elementi principali del canto. Va bene, vi mando un saluto e a presto. Ciao!